Kim. Kim in geologia è Luciano Spalletti. Lo fa nella sua intervista alla UEFA in cui il centrale coreano parla di tutti. Dallo scudetto alla sfida al Milan passando per l'elogio di Usimene, ovviamente. Gli apprezzamenti per il suo allenatore, penso che il suo approccio strategico influisca. Ovviamente, ma il fattore decisivo è la sua passione. Da questo punto di vista. Non ho mai visto un allenatore come Spalletti. La sua passione supera facilmente quella di qualsiasi altro giocatore. Ha una grande voglia di vincere le partite. La squadra è molto aggressiva, non ha paura di nulla. Credo che l'influenza dell'allenatore sia decisiva in questo senso. Kim non vede l'ora di affrontare il Milan, ogni partita è molto dura. In Europa dobbiamo concentrarci prima sui quarti di finale e trattare ogni tappa come una finale. Le parole di Kim, la Champions, lo scudetto e il murale lo scudetto, intanto. Si avvicina, ogni volta che ogni giocatore esce, i fan corrono per scattare una foto. Il che mostra quanto sia già emozionata questa città. Credo potrebbe paralizzarsi per lo scudetto. Altri dicono che ci stiamo avvicinando alla vittoria del campionato e che abbiamo il potenziale per vincere la Champions League, c'è molta pressione. Ma noi pensiamo solo al campo. Il centrale ex Fenerbahce è molto apprezzato dai tifosi che gli hanno anche dedicato un murale, venire considerato così tanto in città e sapere che la gente mi ama. Mi fa sentire molto omorato. Ecco perché sento di dover impegnarmi di più quando indosso la maglia del Napoli. virgola.